Mister Pomante, cosa è mancato quest'oggi al termo che ci ha provato contro una formazione che forse è anche venuta a strappare il punto, ben messa in campo, vi chiudeva la linea di passaggio, forse anche un pizzico di malasorte? Un pizzico di sfortuna, un pizzico anche di bravura, soprattutto nel primo tempo dove eravamo un po' troppo lenti nel giro palla, nel far correre la palla. Loro erano molto bravi a chiudere gli spazi, hanno tenuto un'intensità veramente alta perché ci venivano a prendere alti e non ci facevano giocare, dovevamo essere un po' più cattivi, gli ultimi 30 metri un po' più lucidi, con le qualità che abbiamo lì davanti abbiamo perso un po' troppi palloni, poi nel secondo tempo la loro intensità è calata, noi siamo cresciuti, ci abbiamo messo tanta voglia, forse non puliti come al solito dal punto di vista tecnico, però abbiamo creato, non occasioni nitide, però non sempre puoi creare 7-8 occasioni da gol a partita, di fronte abbiamo una squadra organizzata che come detto tu è venuta qui per cercare di portare a casa un risultato positivo, per il pareggio però dobbiamo rimanere lucidi mentalmente, allunghiamo la striscia positiva, il rammarico è che si poteva vincere, potremmo vincere, però questa volta mi vado a dire che potremmo fare molto, molto e più per primo. 12esimo risultato utile consecutivo, perdete due punti dalla San Benedettese, prossimo impegno proprio contro i marchigioni nella tanna del lupo che ha allungato in classifica, cosa ti aspetti? Andiamo a fare una bella partita, andiamo a giocare secondo me con la squadra più forte del campionato, lo sta dimostrando giustamente, è primo in classifica meritatamente, andiamo a fare la nostra partita, ci andiamo a giocare le nostre chance, senza paura, senza timore, con molto rispetto, però dobbiamo cercare di migliorare dal punto di vista tecnico, perché oggi è stata una partita sporca, ma secondo me è anche merito dell'area canatese che si è vista che è una squadra organizzata, allenata da un ottimo allenatore, che sta facendo bene perché al di là della classifica in rosa ha dei giocatori importanti che oggi ci hanno messo in difficoltà, però ripeto, la cosa importante è che oggi queste sono parti tempo strane che poi alla fine non le vinci le rischi di perdere perché poi siamo stati anche bravi con i tre dietro negli ultimi dieci minuti a recuperare molte ripartenze, a volte a troppa foga per andare a fare golle, siamo rimasti veramente scoperti dietro e dietro hanno fatto una partita da quel punto di vista impeccabile. Per chiudere, nonostante magari non è arrivata la vittoria, bellissimo il momento sotto la curva a fine partita e magari i tifosi saranno fondamentali appunto nel match di Riviera delle Palme. Io lo spero, spero che veramente permettono ai nostri tifosi di assistere a una partita del genere perché questa è una piazza che negli ultimi anni ha sofferto tanto, adesso stiamo vivendo un ottimo momento, soprattutto di classifica, è anche giusto che una partita del genere prima contro secondo è anche giusto che una squadra come il Teramo possa avere veramente i loro tifosi al seguito. Non è successo a Chieti, però spero che qualcuno adesso si prenda la responsabilità di far venire i nostri tifosi a San Benetto perché ce lo meritiamo tutti, se lo merita il calcio, se lo merita il Teramo, se lo merita il San Mettese, andiamo a giocare in un campo che può fare la Serie A come il nostro, quindi si può permettere anche di ospitare una tifoseria, come la nostra.